Anche nel 2018 la quarta edizione del festival Moon in June, in programma all'isola maggiore del lago Tresimeno il 22, 23 e 24 giugno 2018, porterà ancora musica di qualità e non solo in scena al tramonto. Ancora nella splendida cornice del lago Umbro, la manifestazione a cura dell'associazione Moon in June, con il sostegno di Regione Umbria e Comune di Tuoro, propone tre giorni unici e ripetibili per animare ancora una volta il suggestivo e unico scenario dell'isola situata nel cuore del Tresimeno. Il tramonto lacustre quest'anno sarà accompagnato tra gli altri eventi dalle luci della Centrale Elettrica, progetto artistico musicale di Vasco Brondi, che per l'occasione propone l'originale spettacolo studiato appositamente per l'isola dal titolo Terra, Spirituale e Tecnologica. E poi ancora la voce più interessante del panorama musicale italiano, il cantante, compositore e performer John Deleu, affiancato dal suo trio, e il cantautore, musicista svedese Jens Ligman, spazio anche a musicisti umbri, tra cui Matteo Schifanoia. In particolare per Vasco Brondi, che si annuncia un evento nell'edizione.